Musica Isalino, l'inno nazionale italiano Musica 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 Grazie a tutti. 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 Il tuo secondo gol all'europeo non è bastato per vincere la partita? No, decisamente no. Cos'è mancato per portare a casa i tre punti? Ovviamente segnare un gol in più degli altri. Però sono sicuro che abbiamo fatto tutti il nostro meglio. A questo punto diventano decisive le gare contro la Repubblica cieca e contro la Turchia? Era decisiva anche questa partita, quindi purtroppo ci rimangono solo questi due e dovremo dare il massimo. Grazie a tutti.